Vittoria in portante, in trasferta per la polisportiva Palermiti che va a vincere sul campo di un Vena che in quest'ultimo periodo era in forte risalita e ambiva certamente ad inserirsi nelle zone altissime della classifica. Un Palermiti che domina la partita per due terzi di gara, tant'è che si porta sul 3-0 con i gol di Gullà, Papasodoro e Comi ma poi nel finale crolla un pochettino e viene infilata per due volte da Giuliano e Forte ma la squadra di Riga poi non riesce a concludere la risalita per arrivare alla pareggio e si ferma sui due gol che consentono invece alla squadra ospite. Gianluca Macri di portare a casa tre punti importanti. Probabilmente ha pesato sul secondo tempo della gara di oggi il recupero di mercoledì a Petrona che il Palermiti ha perso con lo stesso punteggio di 3-2 dopo essere andato in vantaggio poi è stato raggiunto, poi superato, poi Papasodoro con la sua doppietta è riuscito ad ottenere il risultato di parità ma poi nel finale un rigore per la squadra di casa ha definitivamente messo il risultato sul 3-2 finale con una tripletta di berlingieri e quindi il Palermiti vede sfumare in quel momento un punto importante ma lo recupera benissimo oggi tenendo proprio come abbiamo detto a debita distanza il Veneta, il Vena che poteva fino adesso dare fastidio. Così conferma la squadra della presidenza Truglia il suo terzo posto in classifica e guarda al futuro con più fiducia visto che lo attendono due partite diciamo sulla carta abbordabili perché saranno contro le ultime della classe.